Il personaggio che mi è piaciuto di più è Stabin. È il personaggio che fa un percorso. Sdogana diciamo tutte le cose riguardo gli animali che ancora oggi sono dei pregiutizi enormi sul rapporto fra animale e uomo. Gli animali sono molto simpatici, subito ti leghi a ognuno di loro. Io sono pronto a tutto. Un nuovo The Little, The Little di questa generazione. E mi è piaciuto il fatto della squadra che componendo diversi personaggi ognuno si unisce e poi crea quello che poi può essere una famiglia. Film coinvolgente che diverte dall'inizio alla fine. Mi è piaciuto particolarmente il personaggio del gorilla perché aveva un lato molto umano in cui penso che tutti potevamo rispecchiarci. No, 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 no. Sono troppo bello per morire. The Little, dal 30 gennaio al cinema.